Buonasera, buonasera e buon lunedì. Allora, si apre con questa giornata la settimana delle contro-manifestazioni, chiamiamole così, delle manifestazioni anti-certificazione verde, come dicono quelli che non devono dimostrare di sapere l'inglese. Buongiorno, David. Buonasera, io sarei tra quelli che non sa l'inglese? No, scusate, mi riferivo al Presidente del Consiglio, naturalmente. Settimana di manifestazioni contro il Green Pass, che inizieranno domani con Io Apro, proseguiranno mercoledì con il tuo amico Borghi che promette di portarci anche nel deep web. E questo è un tema anche di oggi, perché sono in vendita le prime certificazioni verdi fasulle, diciamo, in luoghi alla moltitudine sconosciuti, ma invece in realtà ben accessibili. Parleremo anche di questo. Abbiamo con noi Paolo Mieli, buonasera e bentornato, Marco da Milano, bentornato Marco. Buonasera, grazie. In collegamento il virologo Fabrizio Pregliasco, ma la prima pagina che vogliamo aprire con voi è con il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, benvenuto dottor Curcio, che ci parlerà e ci porterà in Sardegna, dove come sapete c'è un'emergenza incendi che riguarda naturalmente l'isola, la flora, la fauna, ma anche le moltissime persone che proprio in questi giorni si sono messe in moto per la Sardegna. Io vi chiedo di restare con noi pochissime secondi di pubblicità e ripartiamo da qui. Buonasera e buon inizio settimana nella giornata in cui Matteo Salvini annuncia di un'intervista a Libero questo Green Pass è ingiusto e inattuabile, la Lega in Parlamento riuscirà a cambiarlo e nella settimana come, buonasera Concida De Gregorio, ricordava nel lancio della trasmissione, sarà una settimana di manifestazioni e di proteste a Roma e non solo, parleremo di questo, del Green Pass che nelle prossime settimane sarà, secondo fonti autorevoli, esteso dal governo anche ai trasporti aerei, autobus e quant'altro, e quindi cercheremo di capire che cosa accade, ma nella giornata di oggi vorremmo anche aprire una brevissima parentesi per quanto riguarda ciò che sta avvenendo in Sardegna. Abbiamo un ospite d'eccezione, con noi il capo dipartimento della protezione civile, il dottor Fabrizio Curcio, buonasera e grazie per essere con noi, visto che sono tanti mesi che lei non va in televisione, grazie per aver scelto la Sette per questo suo ritorno, per darci degli aggiornamenti importanti, lo vedo dalla War Room della Sardegna, dove ci potrà raccontare quello che in questo momento sta avvenendo. Buonasera a Marco Damirano, direttore dell'Espresso, buonasera al direttore Paolo Mieli e al professor Pregliasco, Fabrizio Pregliasco, virologo e con lui come sempre faremo l'aggiornamento sullo stato di salute sia in tema di vaccini sia di estensione della variante Delta. Allora, dottor Curcio, partiamo da qual è la situazione sul campo, visto che lei si trova nella sede della protezione civile a Roma e dietro le sue spalle la cartina dell'Italia che monitora minuto dopo minuto quello che sta avvenendo. 1.500 sfollati, oltre 20.000 ettari distrutti, questi sono gli ultimi dati. Dottor Curcio. Sì, buonasera, buonasera a voi appunto dalla sala operativa del Dipartimento della Protezione Civile. La situazione oggi direi che è nettamente migliorata rispetto ai due giorni precedenti, le condizioni climatiche, il vento ha rallentato nella giornata di oggi e il contrasto attivo molto forte sviluppatosi dal territorio, quindi con le 600 unità tra vigile a fuoco, volontari e forestali e i 12 mezzi aerei della flotta nazionale integrata dai quattro mezzi, due dalla Grecia e due dalla Francia, hanno dato un contributo importante. Adesso siamo nella situazione in cui non si vola più e quindi ci sono ancora due fronti attivi, ma direi che è abbastanza sotto controllo. Ovviamente con gli incendi bisogna mantenere alta la tensione. Per quanto ci può dire, dottor Curcio, ma questi incendi di che carattere sono? Si è capito? Dipendono dalle condizioni climatiche, sono di carattere doloso. Lei che idea si è fatto? Ma allora, gli incendi di Bosco, come dire, da soli sempre difficilmente comunque si innescano. Un'azione antropica il più delle volte c'è che sia volontaria oppure colposa, come si vuol dire, cioè involontaria. Le condizioni climatiche certamente accelerano i processi. Noi abbiamo avuto nelle giornate precedenti condizioni di temperatura e di ventosità tali che veramente è stato molto complicato e non so se le immagini che sono passate in questi giorni rendono giustizia della difficoltà che hanno avuto gli operatori sia combattendo, diciamo, sul territorio e sia dall'aria. Ovviamente il tema dell'incendio doloso esiste anche nei nostri territori, ma ovviamente bisogna accertarsene bene prima di potersi, come dire, esprimere. Ma secondo la sua esperienza, Buonasera, dottor Curcio. Secondo la sua esperienza, gli incendi dolosi quando vengono appiccati vengono appiccati per ragioni economiche normalmente, o per rendere, diciamo, di minor valore il terreno per poi magari in un secondo momento poterlo acquistare oppure in qualche caso per ritorsione fra gruppi economici o familiari. In questo caso, secondo lei, quali potrebbero essere le ragioni? Sì, in effetti le ragioni che lei ha, come dire, elencato possono essere valide su tante realtà diverse. In zone così impervie il tema dell'acquisto ovviamente ha meno sensibilità. C'è certamente un tema anche di sfregio rispetto ad una cultura importante come quella boschiva della Sardegna. ci possono essere altre azioni economiche, locali e talvolta sicuramente c'è il tema della ritorsione. Può accadere, sì. Della ritorsione. E c'è un pericolo concreto per le persone che sono o si prestano ad andare in villeggiatura in Sardegna? Il governatore Solinas ha parlato di disastro senza precedenti e ci sono centinaia e centinaia di sfollati. C'è il pericolo che si estenda ancora? No, guardi, allora, gli sfollati sono sostanzialmente tutti rientrati. Noi abbiamo avuto appunto quei valori che voi avete detto di persone che hanno lasciato precauzionalmente. Io questo lo vorrei sottolineare. È stato fatto un lavoro molto importante di prevenzione. Non parliamo spesso della prevenzione, ma anche portare via in via precauzionale le persone prima che le fiamme possano arrivare nelle zone abitate è un'attività che ha dato i suoi frutti. Il fatto che noi non contiamo vittime in una situazione così complicata, credetemi, anche questo è un successo che si deve alla bravura degli operatori e degli operatori di terra. Avete fatto tutto un buon lavoro. Io direi che per quello che riguarda la Sardegna, sì, beh, la Regione Sardegna, i colleghi che lavorano del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i volontari, gli operatori sardi, sicuramente hanno fatto un ottimo lavoro a terra. Io direi per quello che riguarda la Sardegna, questo è un episodio drammatico che ha coinvolto, come avete detto, migliaia di ettari di una terra bellissima, va continuata a godere una terra splendida. Io non credo che questo debba influire minimamente su quello che è il rapporto con il turismo. Grazie, dottor Culcio. Noi stiamo per voltare pagine, stiamo per andare a parlare delle manifestazioni contro la certificazione verde che da domani riempiranno le piazze italiane. So che lei non parla volentieri della situazione vaccinale, ma come persona e come professionista che idea si è fatto di questo movimento No Green Pass? Ma sì, ha detto bene. Non è che io non voglio parlare della parte dei vaccini perché abbia delle remore particolari. Credo che si debba parlare quando uno è dentro la materia, la gestisce e in qualche modo ha una titolarità per parlare. Noi abbiamo fatto un supporto importante all'azione del commissario, all'attività complessiva di governo. Se vuole un mio parere personale, io sono assolutamente allineato con le decisioni del governo, ma non, come dire, di contratto, ma proprio perché credo che la linea che si sta assumendo è l'unica che ci cautela anche da quello che potrà avvenire in futuro con un virus che veramente è molto complicato da combattere. Quindi lei ne è personalmente convinto, diciamo? Questa è la sua propria opposizione di uomo? Io ne sono personalmente convinto, sì, assolutamente. Grazie mille. Grazie a tutti per questa esclusiva che ha regalato alla Settia, in onda in particolare, a risentirci presto. E con l'aiuto di Luca Sappino, così introduciamo i nostri direttori, pregliasco, andiamo a vedere la settimana dei No Pass e Sappino ci racconta anche quello che ci aspetta da qui a sabato. Vai. Libertà! 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 Roma, Milano, Firenze, le piazze contro Green Pass, mascherine e vaccino non erano autorizzate, lo ha detto la ministra Lamorgese, che ha aggiunto non c'è nessuna dittatura sanitaria, ma vigileremo sulle prossime piazze. Giornalisti di merda! Siete delle merda voi! E la prima manifestazione convocata è quella dei ristoratori. Domani, qui in piazza Montecitorio, alle 15, no Green Pass, fermiamo questi pagliacci. Non siamo contro il discorso vaccinale, chi vuole vaccinarsi si può vaccinare, chi non vuole, siamo però per la libera scelta. Tu controllerai il Green Pass ai clienti che entreranno nel tuo locale? Per quanto riguarda la mia attività e tutte le attività che fanno parte del movimento, io apro, faranno entrare comunque i clienti con o senza Green Pass. E poi mercoledì manifestazioni fraccolate in tutta Italia, a quella di Roma partecipano Claudio Borghi, Siri, deputati leghisti. Sarebbe molto più onesto dire impongo un obbligo e poi vediamo chi lo vota, vediamo chi è d'accordo. Ma essere contro il Green Pass non vuol dire essere contro o pensare che i vaccini non facciano bene. Ma il vaccino se l'è fatto, Borghi? Ovviamente su questa cosa ho sempre detto in tutte le maniere che rispondo che sono affari miei. Allora, Paolo Mieli, anche Giorgia Meloni oggi buon'ultima si è vaccinata, anche se non ha mostrato le immagini perché ha detto che c'è una questione di privacy e quindi c'è un uso anche molto elastico diciamo così della pubblicità dei propri gesti. In alcuni casi Salvini e Meloni sono brevissimi a farsi vedere che mangiano salame o che insomma che bevono però in altri casi c'è subito un tema di privacy. Ti chiedo potrebbe essere un tipo di comunicazione ambigua esercitata ad arte per parlare a queste piazze? Sicuramente lo è nel senso tra l'altro per la Meloni legittima è un partito d'opposizione per Salvini è un po' meno legittima nel senso che un partito di governo si presume a meno di gesti clamorosi che fino ad adesso non ha compiuto che sia d'accordo con quello che sta facendo il governo scelte su Green Pass già annunciate già praticate quindi non ho sentito sì ho sentito dei dubbi di carattere generale ma non è che si è ha detto voteremo contro poi forse perché lo fanno è evidente lo fanno per intercettare anche quell'elettorato non vogliono perdere nessuno fanno una cosa che è vecchia come il cucco il partito di lotta di governo c'è un partito che parla nello stesso tempo al governo quando è al tavolo di governo perché lo fa anzi perché lo fa solo Salvini perché forse Italia non lo fa per esempio e parla poi alle piazze un altro linguaggio i sondaggi danno ragione a Giorgio Meloni che sta crescendo moltissimo insomma anche a lui perché nel senso che il partito di Salvini ricordate tutti che il primo anno di governo dei 5 Stelle che dovette raffrontare passarono in voti reali dal 34 a sotto il 20 cioè si perde a stare al governo per partiti in questo senso dico è possibile che Salvini voglia seguire Meloni più o meno la Meloni sale ma da quello che vedo Salvini per adesso nei sondaggi io poi non credo ai sondaggi ma sta sempre sopra il 20 insomma si avrà perso un punto ma non sono crolli verticali come ci si può aspettare un partito come la Lega che sta al governo con Draghi insomma perché dobbiamo ricordare anche da che storia proviene la Lega proviamo a mettere un altro elemento Marco Damirano tra 8 giorni inizia il semestre bianco e quindi come tutti sanno non si potranno più sciogliere le camere ora questo che cosa comporta comporta forse che i partiti alzeranno anche il loro tasso di litigiosità e ancora questa settimana di manifestazioni che ci vedrà da domani diciamo fino a sabato con la Lega che diciamo non direttamente con Salvini ma con i suoi uomini parteciperà a tutto questo che cosa ci dice cioè proviamo a legare l'arrivo del semestre bianco se le due cose secondo te sono legate con anche queste manifestazioni che tengono il cappello di qualcuno guarda guarda la parola che le Lega ma così ti rispondo a caldo è de-responsabilizzazione o irresponsabilità cioè Borghi che dice sono affari miei e no non sono affari tuoi sei un deputato sei stato presidente di commissione fai politica rappresenti il popolo non sono affari tuoi il semestre bianco così percepito è il momento in cui le forze politiche dicono adesso comincia la ricreazione possiamo buttare giù il vaso di nonno tanto non ci buttano fuori di casa cioè non possiamo non si possono sciogliere le camere non possiamo andare a votare quindi possiamo cominciare a dire la riforma della giustizia non te la votiamo il green pass non te lo votiamo quindi è questo quello che ci aspetta c'è questo clima che è anche un clima che riguarda poi la questione della certificazione verde chiamiamola in italiano perché si conta sulla libertà ma anche sulla responsabilità oggi illustri costituzionalisti a partire da Sabino Cassese e Michele Ainis hanno detto che si può imporre il vaccino obbligatorio perché lo prevede la Costituzione all'articolo 32 cioè che si può imporre un trattamento sanitato obbligatorio e infatti c'è il TSO ma si fa per disposizione di legge cioè non si fa con un atto amministrativo non si fa mettendo una circolare si fa con una legge se prendi il TSO per chi ha una crisi nervosa una crisi di carattere psichiatrico interviene l'autorità pubblica il sindaco lo firma cioè l'autorità pubblica si fa carico di una situazione che può essere potenzialmente pericolosa per l'incomunità della persona che sta soffrendo di una situazione di emergenza e degli altri allora qui siamo in questa situazione punto interrogativo se siamo in questa situazione allora l'autorità politica si deve assumere la responsabilità anche di andare oltre queste misure e di dire che di fatto c'è un'obbligatorietà del vaccino però mi sembra Marco che a proposito di responsabilità e di autorità politica e di governo diciamo XXL dentro tutti ci siano extra large ci siano dei comportamenti che a volte sono ambigui altre volte volutamente ambigui di lotte di governo e altre volte sono prudenti mi riferisco insomma all'atteggiamento per esempio e alle parole del ministro Lamorgese che oggi mi ha colpito perché diciamo ex post due giorni dopo ha detto le manifestazioni non erano autorizzate allora io diciamo da cittadina mi domando qual è la catena di comando cioè chi deve autorizzare delle manifestazioni ma credo che lei scusami non voglio interrompere ma l'abbia voluto dire perché siccome quelli dicevano che siamo in una dittatura nazista quelli delle manifestazioni lei ha detto beh all'animo della dittatura nazista ma come dire nessuno vi ha impedito di ciare infatti in questo senso io penso che il senso fosse questo certo ma io questo intendevo dire cioè in questo senso è come se ci fosse un atteggiamento un po' lasco come se si volesse lasciare sfogare anche questo movimento penso che tu abbia ragione ma è vero e non usare il pugno di ferro perché se la polizia non ti vuole far passare non ti fa scendere il piano ma manifestazioni di questo tipo ci sono in tutti i paesi più in Francia negli Stati Uniti cioè non dobbiamo pensare che sia solo qui per colpa di qualche no no certo in Francia scontro la polizia c'è un tasso di legittima mettiamola così insieme a dei mascalzoni che approfittano però di legittimo dubbio Claudio Gerini l'altro giorno ha fatto un'intervista in cui ha detto che lei aveva delle perplessità insomma ci possono essere moltissime persone secondo me è sbagliato da parte di chi come me e immagino voi è favorevole al vaccino vuole fare la battaglia renderla troppo militante troppo caratterizzata politicamente cioè è un è un passaggio molto importante ma dobbiamo capire che è del tutto fisiologico è veramente d'accordo con te e spesso in disaccordo con David su questo e mi chiedevo se anche l'atteggiamento del governo non sia un atteggiamento che tiene conto di quello che dice è un atteggiamento non esattamente come dire assertivo particolarmente assertivo ma anche pregliasco però per continuare su questo filone che ci dice concita allora un flash di nuovo a voi perché la Lamorgese dice le manifestazioni non erano autorizzate e poi aggiunge le modalità con cui me lo sono appuntato si sono svolte sono assolutamente da condannare allora quel famoso cittadino si chiede ma chi le deve condannare ma appunto anche su questo c'è una questione di responsabilità vedo pregliasco che scuote la testa poi diamo la parola assolutamente anche a lui ovviamente ma anche su questo c'è una questione di responsabilità adesso si hanno spostato il sit-in di mercoledì da Montecitorio a Piazza del Popolo ma insomma al di là della logistica c'è una questione di responsabilità io sono d'accordo con quello che ha detto adesso Paolo Mieli non è criminalizzando cioè spostando in un'area criminale chi dissente sull'obbligo vaccinale che si risolve la questione però bisogna anche dire che chi cavalca quelle manifestazioni diciamo la verità del vaccino interessa poco o nulla ma no è il pretesto si grida al nazismo da parte di persone che sul nazismo hanno un atteggiamento piuttosto simpatizzante però è vero si parla di Orwell da parte di persone insomma che a malapena l'hanno letto comunque forse non hanno ben capito il messaggio di Orwell insomma quindi bisogna distinguere tra un'area di senso del dubbio che va presa e persuasa con le armi della democrazia e chi ci fa un movimento politico su voglio andare da pregliasco ma noi su questo tema della persuasione sono settimane obbligo persuasione che ne parliamo e addirittura ci siamo anche chiesti approfitto per chiederlo qui di nuovo dove sono finiti i famosi quattro spot di Tornatore che erano proprio nella direzione di una comunicazione persuasiva non vorrei che col cambiare il commissario sia buttato anche il premio Oscar con l'acqua sporca ma questo ancora non abbiamo notizia il commissario è tornato poi quindi il commissario è tornato confidiamo che anche gli spot perché la comunicazione la persuasione è molto importante come giustamente dice Paolo Mieli ci sono persone non necessariamente politicizzate ma persone tante persone che non per motivi sanitari per motivi anche di antagonismo rispetto al potere per esempio ho sentito dire io non faccio quello che dice Draghi in tutta una fascia di persone che vengono da una cultura antagonista l'antagonismo serve al potere nelle democrazie andiamo da Pregliasco Pregliasco è uscito fuori oggi che c'è un commercio ci torneremo nei prossimi giorni di certificazioni verdi false non lo chiameremo deep web perché poi passeremo la sera a rispondere a gente che ci dice non sapete cos'è il deep web ma insomma diciamo in zone di telegram o di instagram o di social network dove avvengono commerci illegali 100 euro 1 4 il pacchetto famiglia molto facile reperirli allora la sua opinione personale perché senza Green Pass non si può lavorare dal 5 di agosto per esempio se c'è un lavoro da cameriere non puoi più entrare a fare il cameriere quindi circola questo escamotage diciamo così è triste ma temo proprio che ci sarà qualcuno che ci prova abbiamo visto anche in Veneto medici che si sono tra virgolette auto-inoculati il vaccino e sto che stanno verificando se ciò è vero hanno fatto finta sfruttando la loro posizione di medici vaccinatori quindi di sicuro tentativi ci sono perché effettivamente lo vedo anche in una quota di persone che sono intorno a me e quindi persone che anche addirittura lavorano nel contesto sanitario e arrivano a dire vabbè devo lavorare e faccio il vaccino è un elemento spiacevole per certi versi ma dico a questo punto è quello che permette di fare un saltino a persone che purtroppo nella percezione della vaccinazione pensano di essere su un trampolino altissimo e vedono l'acqua profondissima e quindi hanno paura di buttarsi in realtà è un aspetto di percezione e di idee che non si riesce a discutere anche l'altro giorno ero in un albergo con un insegnante anche questo insegnante al lavoro competente assolutamente ma mi ha snocciolato 3-4 concetti della velocità della vaccinazione dell'origine o comunque del coinvolgimento della genetica di rischi a lungo termine sono elementi che diventano assiomi senza una possibilità di dimostrazione e una sfiducia complessiva rispetto all'autorevolezza delle istituzioni ma lei pregliasco scusi la interrompo lei crede nella teoria del complotto lei sa che si dice sempre in rete che ci siano 12 persone c'è una piccola degli apostoli diciamo che hanno che stanno evangelizzando l'umanità con la teoria del complotto che alimenta appunto la mutazione del DNA l'infertilità e conseguenze diciamo drastiche e irrimediabili lei non è uno dei 12 ma lei crede che ci possa essere un gruppo di persone che come dire ha fatto partire questa questa valanga informativa ma di sicuro che ci sia un elemento magari non completamente coordinato ma che si auto esercita e si ingrandisce proprio perché anche i meccanismi dei social come ci viene detto a ognuno di noi evidenziano ciò che chiedono io sono iscritto all'AMPAS e vedo guarda caso le foto delle associazioni delle ambulanze della mia associazione in modo quantitativo è vero anche amici che ovviamente sono del mio gruppo però davvero c'è un meccanismo che ci autoalimenta nella comunicazione nel convincimento che non siamo soli e davvero gli elementi che poi sono quei tre o quattro che ho accennato sono quelli che rivedo nei tentativi o comunque nei momenti di discussione che ho con le persone dubbiose e sono tutti sciorinati nello stesso modo ma ovviamente senza una documentazione scientifica anche perché non c'è ma si rifà a quegli elementi di non ci crediamo alla big pharma alle istituzioni il medico che dice qualcosa fuori dal coro è il medico che diciamo si è tolto da questo meccanismo che ci vede me compreso coinvolto anche per interessi economici o per come dire elementi di controllo del istituzionale torniamo a Paolo Mieli chiaro mi sembra evidente la sua posizione ma per ritornare alla questione proprio politica di fondo sull'obbligo ma prendiamola a partito da quel che ha detto oggi il generale Figliuolo l'obiettivo è coprire il 60% di under 19 prima che aprano le scuole quindi l'obiettivo sempre con il convincimento per carità ma e qui la domanda è anche allo storico Paolo Mieli noi abbiamo passato un anno e mezzo nel cuore della pandemia usando la metafora della guerra siamo in guerra contro il vaccino Zingaretti qualche settimana fa sul Corriere contro il virus contro il virus giusto l'absus vedi Zingaretti l'altro giorno ha detto ci sono chi non si vaccina è come fosse un disertore quindi anche lui ha usato la metafora della guerra e allora se è vero questo contesto che abbiamo descritto e che anche molti virologi hanno raccontato della guerra contro il virus a un certo punto l'obbligo sarà quanto mai necessario per arrivare a quell'obiettivo del 60% prima di settembre cioè ti vuole stratega di guerra l'acca della guerra chiariamolo bene bisogna vedere se è efficace allora e noi senza fare una storia tra prontana abbiamo l'esempio degli Stati Uniti durante i suoi primi 100 giorni Biden ha riuscito a vaccinare quasi il doppio delle persone che aveva previsto poi invece quando siamo arrivati all'ultimo miglio Fauci l'altro giorno ha lanciato un'allarma e guardate e l'ultimo miglio non è perché loro siano vili o c'è borghi e bagnai o ci sono hai capito è l'ultimo miglio ma anche lui i suoi borghi anche gli Stati Uniti ce l'ha molto più di noi anzi di lì che parte la campagna però c'è credetemi c'è da persuadere un popolo nei confronti dei quali noi abbiamo commesso degli errori voglio ricordarvene uno allora noi saremmo molto più avanti nella campagna vaccinale perché a un certo punto se avessimo seguito gli open day che a un certo punto il generale Figliuolo fece dopo il primo open day ci fu una ragazza una storia terribile che ebbe una trombosi e morì e a parte la riflessione il giusto dolore per quella ragazza ma il generale Figliuolo fu azzannato e fu detto che gli open day erano una stupidaggine clamorosa che era una vergogna che bisognava avere un certificato medico te li ricordi come no? ricorda me il danno subliminale provocato da quelle giornate è enorme perché tante persone intorno a me per esempio si sono convinte che se hai meno di 40 anni e il medico non ti ha detto guarda abbiamo fatto un check up e tu lo puoi fare puoi avere delle conseguenze tipo una trombosi e no ma l'abbiamo fatto quell'errore l'abbiamo fatto noi tutti perché Paolo è vero che se ti dicono un caso ogni 100.000 è a rischio poi quando quel caso ogni 100.000 è una ragazza con il nome e cognome i capelli biondi diventa un altro fatto ma è ovvio ma noi c'è l'elemento emotivo voglio dire no non era solo la ragazza era quello su cui mi fisso è che fu azzannato ai polpacci il generale figliolo e fu gli open day capito allora un conto è commuoversi per la ragazza e siamo d'accordo un conto è che abbiamo mandato a monte un mese due mesi di open day è chiaro questo cioè i ragazzi che si andavano a vaccinare non si sono più andati a vaccinare per responsabilità nostra cioè noi di noi quattro però bastava fidarsi di quello che è Ema cioè l'ente europeo ha sempre detto perché Ema ha sempre detto la stessa cosa tutti fecero marcia in niente adesso è facile ridire facciamo gli open day mandiamo i ragazzi su su ragazzi andiamo ma perché quel giorno ci tirammo indietro e io metto in causa a noi perché perché è facile dire che fu non so i timori di figliolo perché ci tirammo tutti indietro se è giusto vaccinare tutti e arrivare all'80% perché per due mesi gli abbiamo detto no bisogna prima fare un certificato medico che fu quella cosa insomma e a questo aggiungo un'altra considerazione che vorrei porre sia a Marco che a Pregliasco e cioè la cosiddetta chimera dell'immunità di gregge cioè tante delle persone che oggi aspettano noi ci chiediamo ma aspettano cosa oggi una signora mi ha detto aspetto che si vaccino gli altri cioè io sto qua sto a casa quando il 70% si sarà vaccinato allora ci sarà l'immunità di gregge io potrò uscire ma non credo che funzioni cioè forse non ho capito bene io ma non credo che l'immunità di gregge funzioni così no non penso che funzioni così sentirei Pregliasco e poi torniamo all'aspetto politico con Marco sì assolutamente avete ragione perché intanto è un modello matematico l'immunità di gregge e coinvolge tutta la popolazione ad oggi non è possibile vaccinare sotto i 12 anni e vediamo in particolare con la variante delta che sono una quota parte importante del mantenimento della catena di contagi e poi ci sono meccanismi appunto di soggetti che si sono vaccinati all'inizio che perdono poi un po' di capacità protettiva quindi la situazione è molto dinamica in termini di effettiva come dire protezione che ovviamente poi non è del 100% lo sappiamo sulle varianti c'è una certa probabilità che il vaccino venga bucato ma insomma quelli che aspettano a vaccinarsi dottor Pregliasco fanno male perché questo virus rimarrà questo virus rimarrà endemico e sarà la nostra capacità di avere una percentuale elevata di copertura vaccinale per permetterci una convivenza civile con però avendo la percezione e sapendo che un po' di persone si ammaleranno alcuni moriranno ma sarà un qualcosa che diventa come dire tollerato ogni anno avevamo avuto infezioni e influenze stagionali io mi occupo da sempre di questo e anche qui una normale influenzetta stagionale fa dagli 8 ai 25 mila morti ogni anno quindi è un qualcosa che consideravamo come dire la natura che viene a colpire quindi in questo senso cambierà la percezione da Milano quale ti sembra essere la strategia di Palazzo Chigi visto che tra dieci giorni così apprendiamo si ridiscuterà il Green Pass e si potrebbe estendere anche ai mezzi di trasporto e anche se posso aggiungere Marco il tema giustizia come entra in questa discussione allora come strategia comunicativa mi sembra che la conferenza stampa di Draghi sia stato un momento di passaggio importante cioè intanto 5 agosto poi trasporti scuola lavoro successivamente e si va sui trasporti quella frase che lui ha detto chi non si vaccina muore vivere o morire ha una ricaduta politica perché la ricaduta politica è questa il 2 febbraio quando Mattarella la sera ha chiamato Mario Draghi ha detto si fa un governo di alto profilo con due obiettivi va bene uno i fondi europei era il secondo il primo è la lotta la pandemia chi è entrato in quel governo parliamo di unità nazionale tutti i partiti che sono entrati in quel governo si sono assunti la responsabilità torniamo a questa parola di prima di tutto combattere la pandemia allora non è questo non solo nel palazzo cioè non solo nelle aule parlamentari ma anche e direi soprattutto nella società quindi in altre parole se tu sei un sindaco un amministratore un consigliere comunale un deputato deputati e senatori incontrano pochissimo i loro elettori ma poniamo e hai qualcuno che vuole andare alla manifestazione che non si vuole vaccinare devi cercare di convincerlo facendo politica cioè parlando con le persone perché altrimenti l'unità nazionale che tu hai i ministri i sottosegretari hai le famose poltrone e poi appena chiudi la porta del ministero scendi dall'auto blu ai tuoi elettori dici ma sì andate in piazza così poi io faccio l'intervista e sono un po' di qua un po' di là a me questo sembra un atteggiamento irresponsabile allora domando a Paolo Mieli il Green Pass dovrebbe essere necessario anche per entrare al ristorante della Camera del Senato certo soprattutto per entrare alla Camera del Senato o prima ancora che andare al ristorante della Camera del Senato è ovvio cioè la politica tutte le cose che sono di sua competenza deve imporlo lì lo può imporre parliamo di noi se loro fanno i rigidi i parlamentari anche quelli che non sono d'accordo se vogliono accedere al ristorante al bar mi dispiace ma il tema della giustizia Marco diceva aveva due compiti ha due compiti Draghi portare a casa i soldi del recovery e chiudere il piano vaccinale la riforma della giustizia è di rimente indispensabile necessaria per arrivare a cedere ai soldi del recovery in questo semestre bianco che si apre Paolo la riforma della giustizia si riuscirà a fare in questi termini fiducia non fiducia emendamenti se non si fa prima del 3 agosto la riforma della giustizia con un voto in una delle due camere abbiamo capito che siamo alle soldi quindi prima del 3 agosto perché se non si ha quel voto liberissimi tutti si deve fare prima per la ragione che diceva Mato se si entra nel semestre bianco si può rompere il vaso del nonno prima del 3 agosto perché prima del 3 agosto c'è la possibilità anche il 2 c'è la possibilità di dire sapete che vi dico andate tutti a quel paese e però e c'è la possibilità che accada succederà no assolutamente no secondo me è tutto già scritto si voterà la fiducia i 5 stelle diranno che hanno visto che c'è stato un cambiamento di un avverbio di un aggettivo così i magistrati diranno i magistrati dovranno rimangiarsi delle previsioni per cui con questa cosa andavano a monte fra i 150.000 e i 500.000 processi se lo dimenticheranno compice l'estate perché poi per fortuna questa cosa e faranno uno sciopero dimostrativo a settembre ottobre e quindi si andrà all'autunno tu pensi l'autunno sarà già dimenticato digerita da ferragosto questa storia qui ci fa impressione perché è motivo di dibattito in questi giorni ma se capisco i segnali tutto è sentiamo Marco D'Amico no finisci tutto è mettere se capisco i segnali è messo perché si va da un voto di fiducia in tempi rapidi Draghi non è uno che insomma penso quando le cose lo riguardano personalmente insomma lo ha dimostrato una rogna perché poi questa rogna la dovrà ricasca su di lui la deve riaffrontare in più cominciano a esserci parole molto pesanti nei suoi confronti non mi interessa chi le pronunce ma quelle che sono le assemblee che applaudono cioè l'assemblea di Leu è andata in delirio perché c'è il partito del ministro Speranza quando si è detto che poi il ministro Speranza ha preso le distanze ma mi ha fatto impressione all'unanimità è stato come se apparisse il più grande cantante e invece era Travaglio dici no ma secondo me era per le accuse a Draghi dici ma certo per l'accusa a Draghi Travaglio ha tutto il diritto e fa benissimo a dire tutto quello che pensa però la cosa strana è l'applauso di Leu ma la cosa è l'ovazione il coso che Leu cioè il partito di Speranza ha applaudito e poi parole contro la cartabia ministro sempre per il principio di lotte di governo sempre per il principio di risposta a punto di lotte di governo non facciamo capire che solo da una parte no 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 esatto ma è il momento delle bandiere è il momento delle bandierine sì solo che le bandiere le altre bandiere hanno insomma il discorso che abbiamo fatto prima queste sono proprio mirate contro Draghi e contro la cartabia ad persona ma dove si dicono è chiaro è molto interessante vale per Speranza quello che vale per Salvini non c'è nessuna differenza non c'è differenza tra Speranza e Salvini no da questo punto di vista non puoi stare al governo avendo un partito che puoi ammettere che il presidente del consiglio sia insultato ma non chi l'ha fatto perché ovviamente Marco Travaglio ha le sue idee ha tutto il diritto di esprimere il tema è politico sì è anche vero che Speranza ha preso le distanze ma tu dici Speranza ha preso le distanze era una festa del suo partito ma quel tripudio l'abbiamo visto tutti ha registrato quel tripudio dirà qualcosa tu partecipi a un governo che è figlio di un complotto cioè tu partecipi a un governo che è figlio di un complotto cioè sposi questa tesi abbiamo un tripudio di persone che chiedono la pubblicità abbiamo un tripudio in particolare una che chiede di mandare la pubblicità e quello è un vero tripudio tra poco grazie Pregliasco ci dia una parola di conforto rispetto a queste manifestazioni che ci saranno di articolo 1 no no tirarlo in bagno articolo 1 lo chiediamo a Bersani chiediamo cosa ne pensa Pierluigi Bersani la volevamo coinvolgere rapidissimamente su queste manifestazioni che ci saranno da domani a sabato insomma che suggerimento si sente di dare alla ministra Lamorgese io credo che un'azione del ministro degli interni insomma delle istituzioni verso come dire un irrigidimento e un istradamento di queste manifestazioni anche se purtroppo non è solo lì che queste persone stanno assembrate ma come si è sentito anche nelle interviste che avete fatto un disastro no io non ci credo al covid non c'è più e quindi davvero io dico buon senso se la gran parte delle persone avrà buon senso riusciremo a convivere con questo virus che ci terrà ancora purtroppo compagnia a lungo e dipenderà da noi dai vaccini e da un comportamento della maggioranza delle persone di buon senso senza eccedere nella paura ma nemmeno e soprattutto nella sottovalutazione grazie Fabrizio Pregliasco grazie a Marco Damilano grazie a Paolo Mieli tornate soprattutto insieme una coppia di fatto grazie a te David e grazie a voi che ci avete ascoltato per il privilegio della vostra attenzione vi aspettiamo domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti